18 minuti di fuochi d'artificio ed ovviamente celebrazioni religiose in cattedrale. Tutto così ad Arezzo è pronto per festeggiare il 6 e il 7 agosto il santo patrono della città, San Donato. Ad impreziosire due giorni torneranno come sempre i fuochi d'artificio organizzati dalla Fondazione Arezzo in Tour che illumineranno a festa il cielo la sera del 6 agosto a partire dalle 23. Lo spettacolo prevede 64 quadri artistici per un totale di 18 minuti di show. Il comune invita tutti a guardare i fuochi in sicurezza evitando ogni forma di assembramento. I fuochi d'artificio saranno come di consueto preceduti in cattedrale dall'offerta del cero a San Donato che quest'anno si svolgerà in forma ridotta con la sola presenza del sindaco di Arezzo accompagnato da due valletti di signerezzi che alle 21.30 accenderà sull'altare del Duomo il cero decorato dall'artista Rita Rossaldiciani. Il giorno seguente, il 7 agosto, saranno poi numerosi gli appuntamenti religiosi in onore del santo martire. Il Duomo sarà aperto dalle 7 del mattino e le celebrazioni liturgiche si svolgeranno per l'intera giornata.